140 mostre tutte gratuite con spazio per artisti affermati ma anche per giovani talenti. A Milano l'appuntamento è con il Photo Festival a Kermess dedicato alla fotografia arrivata quest'anno all'ottava edizione. Fino al 16 giugno eventi rassegno in palazzi storici, gallerie e biblioteche civiche coinvolgeranno l'intera città dal centro alle periferie. Tutto il programma alla pagina web www.fotofestival.it